Meneer Mendelov, quica è il problema con l'inversionista che non ha accorso attualmente? Diren che non ha accorso attualmente, ha visto che non ha accorso attualmente, gli alcuni imperative e non stava attualmente per la casa che non ha accorso attualmente l'impianto. che stanno guardando stacchi, valgamenti, malcontenti per la sombra. Ci sono stati un po' medie per il paese che contro la loro gente, non ci sono, ma anche per il nostro gremio privato, ci sono stati obiettivi, eccetera. Quindi ci sono stati, ci sono stati un po' di salva, ci sono stati un po' di investimento, ci sono stati localmente, e ci sono stati un processo, ci sono stati un po' di paforo, ci sono stati un po' di procedura, che si sono stati un po' di importanza e con l'urgenza. Dicono, ci sono stati un po' di investimento con il nostro paese, che abbia i geni di lavoro, oggi abbiamo visto che non ci sono milioni di più per invertire in costa, ma non ci sono stati, non ci sono stati, non ci sono stati temporale, o non ci sono stati un po' di lavoro, non ci sono stati un po' di lavoro. E' questo ci sono stati un po' di triste. Ora il nostro paese è stato fatto come un governo, a favore del Pueblo di Costal, e sicuro mi rende la dimensione che sta tomando il luogo, che è contro il Pueblo di Costal, perché è nettamente salva e crea opportunità, per l'inversione, una possibilità più facile, che non ci sono stati, e la ruota, che non ci sono stati tranquilli, e che non ci sono stati un po' di investimento, che non ci sono stati più di lavoro, che non ci sono stati più di lavoro, e meno di medida per venire al Pueblo di Costal. Però questo è il nostro paese è volvente a dimostrare un governo che non sta a favore del Pueblo di Costal, un governo che non ha creatività, un governo che non ha creatività, un governo che ha un po' di esperienza, di una maniera che ci sono stati più di esperienza, ma se ci sono stati esperienza per i turcini, ma in Black Bar non ci sono stati esperienza, che non ci sono stati servito per niente, ma non ci sono stati creatività, non ci sono stati dimostrare, non ci sono stati più di opportunità, ma non ci sono stati più di partito, ma non ci sono stati consigli, invece di fare una maniera contro il Pueblo, crea una maniera e procedura per il investimento, non ci sono stati più tranquilli, e non ci sono stati più di questo paese. Ma come un investimento, non ci sono stati più di lavoro, ma non ci sono stati ilegali.